Musica Musica Partita tra le ultime in cui crei più occasioni da gol arriva un'altra sconfitta, è vero, l'avversario era il Napoli una delle squadre più importanti del nostro campionato in una situazione però non brillante quindi si poteva sicuramente fare risultato l'Udinese è andata ad un passo dal pareggio, poteva vincerla, l'ha persa ancora una volta con una ingenuità, una gravissima ingenuità nel finale a tempo scaduto è arrivato il gol di Bacaglioco per il 2-1 a favore del Napoli analisi di questa partita che faremo come sempre con gli opinionisti in studio Guido Gominato, buonasera, buonasera Nicolà Angeli, Marco Canciani Alice Matteloni in postazione web, buonasera Alice Buonasera Francesco, buonasera a tutti voi ovviamente come sempre aspetto i vostri messaggi vi ricordo il numero al 349 308 1741 e poi nel corso della serata tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda Juventus e Sassuolo al momento 0-0 Andiamo da Fulvio Colovati a salutare a Milano il nostro campione del mondo Fulvio, buonasera Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Allora la notizia di oggi è quella del ritiro perché scatterà a partire da martedì il ritiro fino a quando la squadra evidentemente non ritroverà se stessa e non ritroverà continuità di risultati il cosiddetto ritiro ad oltranza a partire da martedì in vista della partita contro la Sampdoria a cui faranno seguite due partite quella con l'Atalanta al recupero della gara che non fu giocata il 6 di dicembre e poi con l'Inter per chiudere il girone d'andata tre partite molto difficili ora non stiamo qui a dire che tutte le partite sono difficili nel nostro campionato perché così è, sarebbe banale dirlo a maggior ragione però in questa situazione l'Udinese che comincia a guardarsi alle spalle quando a un certo punto cominciava a guardarsi davanti adesso deve guardarsi alle spalle con tre clienti scomodi come Sandoia che in un buon momento come l'Atalanta che in un buonissimo momento come l'Inter che lotta per lo scudetto c'è poco da essere allegri e allora vado subito intanto a lanciare il servizio sulla partita realizzato da Alessandro Surza vediamo quello che è successo oggi alla Dacia Arena tra Udinese e Napoli è difficile trovare le parole giuste e soprattutto è difficile raccontare una gara combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre una gara che l'Udinese non meritava di perdere e invece i tre punti allo scadere hanno preso il volo verso Napoli un'altra l'ennesima beffa stagionale per i bianconeri Gotti sceglie di alzare Pereira in coppia con Lasagna e rilancia Mandragora alla prima da titolare in questo campionato l'avvio di match è subito pimpante con le due squadre che partono forte e provano a creare i primi pericoli al quarto d'ora però ecco il primo episodio che cambia la partita Bonifazi entra su Lozano scegliendo malissimo il tempo dell'intervento estende nettamente il messicano Pasqua ci pensa un po' e dopo aver rivisto le immagini al VAR indica il dischetto Insigne non sbaglia ed è 1-0 Napoli gli azzurri alzano il ritmo e vanno vicino al raddoppio ancora con Lozano che colpisce bene di testa trovando però la risposta di Musso che è reattivo anche poco dopo sulla spizzata pericolosissima di Petagna sugli sviluppi di un calcio d'angolo scampato il pericolo l'Udinese torna a premere e trova il pareggio grazie a Lasagna che approfitta di un clamoroso errore in disimpegno di Rachmani che serve Meret con un pallone però troppo pigro sul quale si avventa l'attaccante biancoriero che scarta l'estremo difensore azzurro e deposina in rete il gol dell'1-1 al minuto 27 da lì in poi cresce l'Udinese con il Napoli che inizia a soffrire ma il punteggio non cambia e si va a riposo sull'1-1 in avvio di ripresa torna a farsi vedere il Napoli prima Zielinski impegna Musso poi Insigne incredibilmente calcia a lato da ottima posizione graziando l'Udinese che però non rinuncia ad attaccare bello movimento di Lasagna sul passaggio di Arslan KL15 poi in buca per Larsen che da posizione defilata calcia col sinistro trovando il piedone di Meret a dirgli di no 120 secondi dopo altra ripartenza dei padroni di casa scambio di vino tra De Paul e Pereira il Diez avanza e poi allarga per Lasagna che da buona posizione spreca tutto calciando ancora addosso Ameret poi al novantesimo ecco la beffa punizione dalla tre quarti battuta da Amarirui colpo di testa preciso di Bakayoko e sorpasso Napoli all'ultima curva finisce 2 a 1 per gli azzurri sconfitta amarissima per l'Udinese che paga ancora una volta le disattenzioni difensive nei dettagli e adesso le partite senza vittoria sono 6 il prossimo avversario si chiama Sampdoria questo è quello che è successo alla Dacia Arena vediamo però di iniziare subito l'analisi del match come sempre dalla chiave io ho visto una buona partita oggi pomeriggio dell'Udinese che ha tenuto testa Napoli giocando una gara viso aperto rispondendo colpo su colpo alla squadra partenopea se vogliamo fare una disamina complessiva le occasioni da gol create dal Napoli sono le stesse rispetto a quelle create dall'Udinese quindi i numeri ci dicono che è stata una gara molto equilibrata nella quale l'Udinese per larghi tratti della partita è stata superiore mi riferisco agli ultimi 20 minuti del primo tempo ai primi 25 del secondo purtroppo paghiamo due due errori individuali dovuti secondo me a un po' di ruenza il primo di Bonifazi e il secondo il fallo di Uolla su Zielinski che potevano essere evitati però l'Udinese che ho visto oggi è un Udinese che ha giocato che ha fatto che ha fatto bene contro una squadra di primo livello per cui sotto l'aspetto dell'atteggiamento della voglia della prestazione sono queste le partite che vogliamo vedere poi indubbiamente ci sono stati due episodi quindi la chiave di stasera sono i due episodi il rigore e la punizione che hanno determinato purtroppo un esito negativo allora varo subito da Fulvio Colovati per come sempre vedere se è d'accordo con Marco se vuole aggiungere qualcosa su questa analisi del match che dal punto di vista dell'equilibrio tra le due squadre sicuramente c'è stato quindi il pareggio sarebbe stato giusto con un pizzico di lucidità in più davanti si poteva anche vincere la partita naturalmente anche con un pizzico di attenzione in più dietro ma guarda io ho visto la partita a fine partita veramente ero amareggiato amareggiato perché non si può perdere una partita del genere io ho contatto se andate a vedere i tabellini sul web ci sono 8 tiri in porta da parte dell'Udinese e 4 tiri in porta da parte del Napoli per cui io penso che l'Udinese oggi abbia buttato via una grande occasione dal punto di vista della prestazione ha ragione Marco io ero contento perché l'Udinese ha giocato una grande partita di possesso ha messo in difficoltà il Napoli ha creato opportunità però torno a dire se non c'è lucidità in fase difensiva ancora una volta io ormai non li conto più i gol che sono presi sulle calci piazzati palle da ferma non li conto più non so più cosa dire si marca zona ma quale zona si deve marcare a uomo baccaio co un gigante di 1,90 lasciato completamente libero ma io dico come si fa siamo qua a ricriminare per un errore l'ennesimo detto anche da Gotti in fase difensiva degli eroi ma non è la prima volta non è la seconda volta non è la terza volta sono errori che ci continuano a perseguitare un po' sicuramente per errori individuali errori di reparto però dal punto di vista della prestazione e cosa vuoi dire all'udinese ha giocato una grande partita forse una delle migliori secondo me io ho visto una delle migliori udinesi degli ultimi tempi ma il problema è che rimani con un cerino in mano rimani senza punti per cui non lo so adesso ci aspettano veramente delle partite difficili e bisogna fare punti già da domenica prossima contro l'udinese sabato prossimo contro la Sampdoria assolutamente allora Alice è finito il primo tempo della partita tra Sampdoria e Sassuola aggiornaci sul risultato così approfittiamo anche per dare un'occhiata alla classifica e vedere quel che diciamo poco fa cioè che bisogna cominciarsi a guardare alle spalle seriamente per evitare di non pensare a quello che può accadere dietro perché si correrebbe un grosso rischio bisogna essere consapevoli adesso che bisogna guardarsi alle spalle e fare attenzione e sì Francesco è terminato infatti all'intervallo Juventus Sassuolo ancora 0-0 il Sassuolo però con un uomo in meno quindi questa è la situazione per quanto riguarda Juventus Sassuolo andiamo a vedere la classifica a questo punto è classifica alla diciassettesima giornata che vede il Milan in testa a 40 punti segue l'Inter a 37 la Roma a 34 Atalanta a 31 insieme al Napoli a 30 punti invece la Juventus Sassuolo a quota 29 Lazio 28 Verona 27 Benevento 21 a 20 punti la Sampdoria e poi 18 Fiorentina 17 Bologna 16 Udinese a 14 lo Spezia a 14 anche per il Cagliari per il Genoa a 12 il Torino insieme al Parma e chiude il Crotone a 9 punti Allora se non fosse che la partita da recuperare quella contro l'Atalanta una delle squadre più in forma di questo momento ci verrebbe anche da dire che la classifica poi non è così preoccupante considerato che la Sampdoria a 20 ancora deve giocare è vero ma se magari fa il colpaccio a Genova accorci parecchio su un'altra squadra che in questo momento sta facendo bene e tutto sta a trovare di nuovo la continuità dei risultati ma torniamo sulla partita di questa sera Guido Gomirato Allora a me intanto non ha sorpreso l'impiego di Larsen a sinistra per dire questa è stata secondo me una delle chiavi importanti per bloccare comunque il Napoli con un giocatore che garantisse un tantino di copertura in più visto che si era deciso Gotti ha deciso di dare un turno parziale di riposo a Zegelar ma al di là di questo comunque in un certo qual modo Gotti il Napoli l'aveva imbrigliato ora che il Napoli non sia in una condizione brillante ok però l'Udinese la sua partita anche dal punto di vista tattico l'ha fatta ancora una volta però questi maledetti episodi condannano la squadra friulana ebbè proprio perché ancora una volta la condanna che io non do all'Udinese alcuna attenuante perché è una costante è una costante di marchiani errori non si può sempre chiamare in ballo la sfortuna non si può sempre dire ma è una sconfitta befa basta perché e non si può continuare a dire dobbiamo rifarci il turno successivo certo la classifica non è preoccupante secondo me non è mai stata preoccupante e anche in chiave futura io non sono preoccupato per l'Udinese perché l'Udinese in A rimane solo che è un peccato che l'Udinese debba solo lottare per la sopravvivenza quando ha qualità per fare per Ambira qualcosa di meglio guardiamo dov'è per esempio il Benevento non dico il Verona ma dov'è il Benevento potrebbe starci benissimo proprio l'Udinese oggi ha giocato una partita solida intensa ha evidenziato i problemi attuali del Napoli che il Napoli in questo momento ha delle difficoltà a trovarsi però rimane una squadra sicuramente forte in contropiede sovente ha fatto scricchiolare il sistema difensivo dei partenopei ha avuto io ho contato tre limpide occasioni per segnare non c'è riuscito ma non si può chiamare in ballo la scalogna quando sbagli occasioni facili dall'inizio del campionato beh dico basta con la sfortuna bisogna in qualche modo intervenire e ha fatto bene la proprietà a ordinare il ritiro perché vadano un po' a meditare su quanto fatto questa squadra ha ottenuto tutto dalla proprietà anche di non andare in ritiro quest'estate in occasione della preparazione per questo campionato hanno a disposizione cosa vogliono non sono mai stati criticati ma a un certo punto bisogna dire basta basta a dire a tirare in ballo la sfortuna basta a prendersela con gli incidenti basta a prendersi con gli infortuni basta a tutti ma scusami Guido Guido ma chi è che scusami ti faccio una domanda una domanda precisa chi è che tira in ballo la sfortuna non abbiamo parlato di sfortuna ma non dico mica a te io non lo so sto parlando in generale sto parlando sto parlando che qualcuno ma non è sfortuna ma non è sfortuna si ma tu continui a dire chi è che ti ha tirato in ballo la sfortuna i media c'è qualcuno i tifosi sento parlare anche di sfortuna ma io il mio discorso vuole anche prevenire se qualcuno parla di sfortuna perché quando commetti errori a ripetizione come quello di oggi come quello con il Bologna come quelli con la Juventus non si può se uno la tira in ballo parlare di sfortuna ma io parlerei di demeriti di scarsa concentrazione e quindi di disattenzione l'Udinese non ha attenuanti oggi ho sentito parlare oggi ho sentito parlare questo è per prevenire non sto accusando nessuno qui no ma Guido allora l'Udinese ha preso mi pare 20 non so ditemi voi 23 gol no dico bene 23 gol 25 gol allora di questi 25 gol 20 sono presi per disattenzione nella difesa 5 presi per bravura dell'avversario appunto oggi non puoi dire che il gol che hai preso di Bacaglio Co e bravura di Bacaglio Co perché è normale che Bacaglio Co Maxinovic lo stesso Petagna per non parlare di Lorente sono alti 1,90 vanno a saltare la cosa che devono fare vanno a saltare ma non ti puoi dimenticare è successo sarà successo 10-15 volte ma non è possibile è ripetitiva e io questa cosa qua te l'ho detta 10 partite fa non te l'ho detta dopo analizzare scusa Fulvio perché le vedevo stiamo perdendo tempo perché diciamo le stesse cose io ho detto che non vorrei che si chiamasse in ballo la sfortuna ma perché questi episodi sono ricorrenti ho detto dall'inizio del campionato per cui la squadra non ha scuse nessuno ha scuse ed è un peccato che questa squadra getti al vento punti importanti perché dovrebbe essere dalla parte sinistra della classifica invece si trova lì ripeto quello che ho detto prima secondo me non ci sono problemi di salvezza ma è riduttivo parlare soltanto di salvezza come traguardo minimo massimo questa Udinese può ambire a qualcosa di meglio può ambire a una posizione mediana o anche a sinistra dove si trova adesso il Benevento per questo dico che se qualcuno dovesse tirare in ballo la sfortuna o parlare di di Beffa non mi trova d'accordo questa squadra non devi concedere perché gli errori sono troppo marchiani e ripetitivi si ripetono dall'inizio del campionato davanti e dietro sentiamo che cosa ha detto Gotti in conferenza stampa e poi commentiamo le sue parole cominciando il giro da Nicola questa volta e poi prepariamo Alice una serie di messaggi da leggere perché c'è una vera e propria esplosione di messaggi sono in tantissimi stanno scrivendo in tanti davvero tutti con temi sui quali si può sviluppare sicuramente un buon dibattito andiamo a sentire Luca Gotti in conferenza stampa è così è un filo conduttore che ci accompagna dall'inizio del campionato dall'inizio del campionato perché poi le grandi occasioni le tante occasioni che non riesci a concretizzare cambiano il corso delle partite cambiano ti fanno subentrare anche delle insicurezze ti fanno pensare però adesso ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato adesso è il caso che non prenda gol le partite spesso prendono una deriva in relazione a quello che ha detto lei insomma l'Udinese oggi gioca contro una squadra forte avendo otto occasioni da gol ne fai uno su un retropassaggio non c'è esigenza di attenuanti dal mio punto di vista la squadra non meritava di perdere dispiace perdere al novantesimo dispiace ancora di più brucia ancora di più perdi su un rigore e su una punizione però la squadra secondo me ha giocato una buona partita a tratti anche ottima la squadra è consapevole che prima si arriva ai 40 punti poi si fanno altri ragionamenti e solo che capitano intanto mentre fai il tuo percorso capitano parecchi infortuni gravi perdi parecchi giocatori non è sempre facile risettare ripartire ritrovare gli equilibri non è sempre così semplice sabato sera è ovviamente una partita difficile come lo sono tutte perché non mi risulta che in serie ci siano partite facili e bisogna fare il tesoro nel caso specifico anche da questa cosa che hai preso gol su punizione in un modo analogo a quello di tre giorni fa a Bologna cose dove normalmente noi siamo abbastanza bravi in generale invece siamo mancati in queste due situazioni parleremo delle cose da registrare in meglio parleremo anche delle cose che sono state fatte bene e che ce ne sono tante oggi allora cominciamo proprio da questo Nicola di cose fatte bene tu quante ne hai viste tante come il mister? ma ne ho viste più di qualcuna come anche noi ne abbiamo viste tante o più di quanto direbbe risultato effettivamente no beh la sintesi corretta non c'è bisogno di attenuanti c'è bisogno di punti ma l'ha detto lui quindi almeno da quel punto di vista siamo corretti ho visto una squadra che ha giocato nel primo tempo dai diremmo una bugia se sostenessimo che la squadra non ha sviluppato non sia proposta dai questo è successo poi torniamo al discorso di sempre ti ripeto possiamo fare la clip dei commenti post partita gol Verona e la applichiamo per ogni partita per tutte le partite come diceva Fulvio su 25 gol 20 sono stati presi per disattenzioni anche oggi due reti Bonifazi che entra come se si dovesse spazzare l'area è totalmente in ritardo e Molina che si abbassa su Baccaio Cone anche salta ma si genuflette quasi di fronte al salto del centrocampista del Napoli forse devi rivedere anche però le scelte sui calciatori da marcare perché Molina rispetto a Baccaio Cone è la metà si vabbè ma se in quel momento sei tu sei tu sei tu fai qualcosa se ti trovi sulla sua strada vuol dire forse che non è stato ben preparato in quel momento se ti trovi sulla strada devi intervenire in qualche modo ma non dovresti trovartelo tu che sei mezzo metro con uno o due metri al limite ti fa fallo ma devi in qualche modo cercare di ostacorarlo anche se non è il tuo uomo è il più vicino in qualche modo devi intervenire o cercare di intervenire non lo so il secondo gol possiamo guardarlo un attimo allora andiamo andiamo a vedere cominciamo con l'equilibrio è sempre irreale che il giocatore si abbassi in quel modo cominciamo cominciamo a vedere un movimento totalmente tipo dire scusa un attimo mi metto qui salta pure è chiaro che questo non deve accadere però probabilmente andava studiato meglio come comportarsi sui calci piazzati mi sembra un comportamento inconcepibile non voglio utilizzare aggettivi non calcisti però davanti a lui guarda lì si ferma tac sì ma non sei neanche accorto che gli arriva il baccaio è vero non sei neanche accorto ma sapete perché non si accorgono sapete perché non si accorgono perché è ora di finirla con queste marcature a zona cosiddette cosiddette marcature a zona perché guardano a ragione Guido guardano tutti il pallone e poi è chiaro che se guardi il pallone quello di 1,90 ti sbuca e spuca facciamolo vedere anche mentre parla fuga facciamolo dire così si capisce bene quello che è successo ma è una cosa nel momento in cui invece se guardi l'uomo vedi che vedi il baccaio che prende la rincosta ti metti davanti e non lo fai saltare tutto lì ma ci vuole così poco dato che sono scene che stiamo ripetutamente vedendo non è solo a non saltare però a Molina è possibile che non la tua mia anche se che la cosa possibile possibile che non ci sia guardate lì c'era due giocatori uno si è allontanato e l'altro Samir guarda l'uomo non guardare il pallone perché quello di 1,90 se guardi il pallone può averla meglio su di te perché è più alto è normale comunque sono errori che si sono errori che si ripetono domenicalmente è questo che l'Udinese deve lavorare su questi non sul gioco come abbiamo detto perché l'Udinese in fondo ha ragione a Nicola è una squadra che ha giocato l'ha messa in difficoltà il Napoli il Napoli era in difficoltà oggi ma il gioco non c'è comunque sono in tre che se lo perdono Baccaioco sono in tre che si perdono palla e Baccaioco il primo deve chiudergli la strada perché se lo vede arrivare invece di guardare il pallone il primo è Nicola non voglio gettare la croce Nicola Molina non voglio gettare la croce all'Argentino sia ben chiaro ma se l'Argentino che si trova nei paraggi della corrente Baccaioco non può far finta di niente deve in qualche modo cercare di ostacolarlo lo butterà per terra ma non deve aver paura ma non l'ha visto io credo che non l'abbia visto proprio arrivare è grave? sì grave sì ma non l'ho credo che non l'abbia proprio visto non se n'è accorto semplicemente non si è accorto che arrivava dietro questo treno è assaltato indisturbato però si piazza davanti eventualmente ti viene addosso e può essere fallo però c'è anche da dire che su una palla che parte da quella parte dovresti aspettarti che arriva sul secondo pallo giusto? poi posso dire una cosa poi posso dire una cosa una punizione battuta da Liti aspetti che arriva sul secondo palo forse lì ci vai a mettere quelli un po' più alti la tua considerazione ci sta però dal punto di vista della situazione una situazione a fine partita al novantesimo ci sono degli errori indubbiamente come ha fatto sottolineare bene Fulvio nessuno che guarda l'inserimento da dietro ce n'è un altro però il fallo è il fallo che non devi fare perché comunque ce n'è un altro qual è? qual è? Lozano Lozano con le spalle alla porta cioè ma io dico Wallace ma come si fa a fare un fallo? è questo di Wallace ma certo ma Wallace gli avrei detto 4 te lo dico la verità non è entrato in partita a due minuti dalla fine spalle alla porta sulla tre quarti spalle alla porta 10 metri guardate da dove fate la posizione ma dove vuoi che va da Lozano perché devi andare a due minuti dalla fine così con frenesia a procurare un calcio di pulizione del genere è un errore di Wallace ed è un errore clamoroso della fase difensiva chiaramente però Wallace non doveva non doveva andare con impeto lì doveva temporeggiare non esiste più la parola temporeggiare si è proprio una dinamica stante perché hanno corso tutti insieme alla fine Baccario Cosa Alta e nessuno lo prende più allora lì ci andiamo a leggere una raffica di messaggi prima del break pubblicitario davvero tantissimi messaggi grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo proveremo a leggerli tutti tempo permettendo vai sì perché ce ne sono davvero tanti e Francesco chiaramente da casa si sta cercando il capro espiatore e diversi errori c'è chi scrive certo che Lasagna è sicuramente l'uomo in meno ogni gol corrisponde ai numerevoli errori sotto porta Gotti con i cambi proprio non ha feeling Wallace veramente inguardabile scrive in difesa le dormite sono all'ordine del giorno questo è il messaggio stanno a dire è ingeneroso dare a lasagna dell'uomo in meno lasagna comunque oggi ha segnato poi ci sono stati degli errori non è in un momento brillantissimo però insomma non esagerare uno che comunque cerca sempre di fare il massimo poi non è in condizione però dire che l'uomo in meno diventa difficile dire che l'uomo in meno assolutamente non siamo d'accordo e non perché siamo la tv dell'udinese ma perché sapete noi quando c'è da criticare le critichiamo anche lasagna stasera c'è da criticarlo per il gol che non ha fatto però dire che l'uomo in meno mi sembra sono stati due regali due gol questa è la verità perché Fulvio Colovati che è stato un difensore campione del mondo stopper mai sarebbe entrato come Bonifasi oggi su Lozano mai perché è stato un grave errore l'entrata qualche erroruccio l'avrà fatto anche Fulvio nella sua carriera allora però aspetta facciamo leggere un attimo i messaggi ad Alice Fulvio no 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 non li fai leggere i messaggi non li fai leggere i messaggi perché io ti rispondo ha ragione Guido non fare il furbo perché io ne ho commessi tanti di errori appunto dicevo qualche errore l'avrai commessa con questo impeto nei confronti di un giocatore Lozano che la cosa che fa non so se l'avete visto è veloce è rapido è sempre per terra e ti dribbla l'unica cosa cioè c'è il dribbling e se fai con quella foga lì è normale che fai il calcio di riguardo andiamo su delle spettature dentro là Alice vai vai scrivono un piccolo appunto sulla presentazione del primo tempo secondo me fino al gol che ci ha regalato Ramani il Napoli era in controllo poi ovviamente sulle ali dell'entusiasmo siamo migliorati noi e loro hanno dimostrato di essere la squadra che ha perso con lo Spezia squadra sana squadra senza sana cattiveria molle e senza gioco e il mister è contento così io sono molto arrabbiato e questo è dir poco scrive il nostro telespettatore e poi rispetto da Monaco quindi abbiamo anche telespettatori che c'erano dall'estero bene sì da Monaco poi un altro telespettatore commenta il messaggio che abbiamo letto prima e dice se dobbiamo avere paura di una punizione dalla tre quarti dai è inutile colpevolizzare Wallace e poi aggiunge continuiamo a fare il processo alla difesa ma facciamo il processo all'attacco in una situazione come questa nel secondo gol in una parabola del genere il portiere deve uscire c'è infatti più di qualcuno che scrive che nel secondo gol in parte colpa ce l'abbia Musso in quanto non uscito il tallone d'Achille del nostro Musso che troppe volte ha sbagliato andate a vedere i gol presi scrive Gianni stasera Musso non ha nessuna colpa io credo di assolvere Musso perché vediamo semplicemente un'altra volta era un tiro a rientrare forte abbastanza teso è arrivato sul limite sul vertice dell'area piccola quindi non può uscire Musso poi quando hai sei davanti ti fanno inevitabilmente il blocco i tuoi stessi giocatori ti fanno il blocco non puoi uscire il problema non è Musso il problema è che qualcuno doveva impedire al giocatore del Napoli di saltare indisturbato e colpire ok Alice Valle ancora messaggio arriviamo al break non è Musso ha tenuto a gala all'Udinese nel primo tempo anche oggi ci scrivono dobbiamo evidenziare gli errori dei singoli e la cosa sta incominciando a stancare le cose sono due o i giocatori non sono così talentuosi o sopravvalutati oppure lo staff tecnico non riesce a farsi ascoltare ben venga la decisione del ritiro da parte della società un segnale scrive bisogna darlo ai giocatori ma anche al tecnico che mi pare non sia d'accordo e questo potrebbe causare delle conflittualità che non ci possiamo permettere questo è il messaggio di Vincenzo che poi aggiunge continuiamo a prendere gol su palle inattive ma lo staff tecnico lavora su questo fondamentale e poi Hermes dice la cosa più grave è che facciamo questi errori in ogni partita che giochiamo sul gol di Bakayoko poi aggiungono l'errore di Samir stringe al centro per raddoppiare su Liorente mi sembra scrive e se lo fa scappare alle spalle poi Molina può far ben poco ancora un altro messaggio Sergio scrive oggi Bonifazi domenica scorsa Samir con questa difesa non andiamo da nessuna parte ogni partita dice un altro telespettatore c'è qualcuno che sbaglia dormono tutti devono svegliarsi e poi sottolinea sempre lo stesso telespettatore che Samir da quando non gioca anointing si è praticamente annullato e poi sottolineano il fatto da casa che vorrebbero vedere la società acquistare qualcuno in attacco vista la situazione e visto che non si riesce a segnare dice Daniele che arrivi anche dall'Alaska ma che la butti dentro ancora qualche messaggio sono parecchi anni che arriva l'allenatore a fine partita dicendo che abbiamo creato parecchie azioni e sul versante difensivo causa nostre disattenzioni prendiamo gol a ripetizione conclusione dal mio punto di vista è un problema per quanto riguarda i giocatori che non segnano e per quanto riguarda i difensori questo è il messaggio di Paolo e ce ne sono altrettanti da leggere lo faremo dopo con un'altra raffica tutti i temi che abbiamo trattato su alcuni siamo intervenuti perché in palese la squadra non giochi non è vero dopo che la squadra faccia errori esattamente non abbia un gioco è uno stupidaggio su alcuni di questi temi siamo intervenuti perché in palese cordiale disaccordo con chi ci ha scritto ma bene così dateci il vostro parere dateci i vostri spunti e noi vi risponderemo o tratteremo comunque gli argomenti che ci avete indicato adesso ci fermiamo un attimo pubblicità tra pochissimo di nuovo in diretta eccoci qui di nuovo in diretta e allora andiamo avanti nella nostra disamina della partita visto che si sta parlando molto del fatto che non si riescono a sfruttare gli errori degli avversari oggi Lasagna l'errore lo ha sfruttato anche bene allora visto che abbiamo chiuso anche con la prima parte anche con tante critiche al nostro attaccante io volevo farvi vedere il gol con delle immagini anche particolari che abbiamo a disposizione soltanto noi di Udinese in tv attraverso il circuito della Lega Calcio immagini straordinarie che ci permettono di apprezzare quanto Lasagna sia stato bravo in questo caso noi vogliamo vogliamo mostrarvele anche perché se uno fa queste cose vuol dire che ce le ha deve soltanto trovare tranquillità continuità essere un poco più tranquillo avere meno paura e poi potrà tornare ad essere quello che abbiamo conosciuto quando segnava gol in continuazione come nel post lockdown per esempio questo è un gol di rapina importantissimo perché andare a pressare un gol di velocità uno scatto straordinario che l'ha portato poi a tu per tu con Meret bravo anche qui a saltarlo e a segnare dunque diamo anche a Lasagna quel che è di Lasagna adesso che poi abbia sbagliato altre opportunità questo è vero e tra un po' vi faremo vedere anche le azioni che potevano essere sfruttate meglio ma qui ha fatto secondo me un gran gol a prescindere dal fatto che sia stato propiziato da un clamoroso errore di Ramhani e forse da un'uscita leggermente in ritardo di Meret che però mi sento di rassolvere perché non si aspettava quel retropassaggio così tempo ma ha avuto un retropassaggio forse aspettava un passaggio un poco più forte da parte del suo compagno quindi che gli arrivasse subito tra i piedi anziché doverselo andare a prendere comunque al di là di questo Lasagna ha fatto un gran gol e vogliamo che sia di buon auspicio questa immagine e questa rete di Lasagna non con il suo piede tra l'altro non con il suo piede ma continua ad avere questa tendenza ad andarsi a cercare la zona destra Marco diciamo anche lo scorso anno Lasagna aveva segnato in casa contro il Napoli sì esatto guarda secondo me sempre di destro da quella parte sotto quella curva diciamo che a mio avviso la prestazione di Lasagna è stata una prestazione buona perché ha messo in apprezzione tutta la difesa del Napoli tant'è vero che guardando un po' i voti su alcuni siti tutti i difensori centrali del Napoli sono risultati essere insufficienti perché con quello che hanno combinato stasera però con la sua velocità e col fatto che attaccasse la profondità soprattutto con le ripartenze sia nel primo tempo che nel secondo per me ha fatto una buonissima partita spero che questo gol lo aiuti nel suo percorso di crescita di consapevolezza perché deve ritrovarsi soprattutto a livello psicologico qui ci crede ci crede perché parte dal centro campo per andare a inseguire il possibile errore l'ipotetico errore che poi si è verificato questo è un bel segnale era il gol numero 30 in campionato di Lasagna con la maglia dell'Udinese non è che nella storia dell'Udinese nella massima categoria ci siano numerosi atleti che abbiano segnato più di lui vediamo allora vediamo anche vediamo anche allora quelli che però purtroppo non ha segnato andiamo a dare un'occhiata perché un po' ci siamo anche arrabbiati in tribù non solo in tribù questo qui questo qua poi il guardialini aveva alzato la banderina aveva segnalato il fuorigioco il fuorigioco comunque non ha segnato quindi vabbè qui tiro debole comparata ma non era lui ecco qui forse secondo me qui si dimostra un po' tutta la sua insicurezza in questo momento quando piuttosto che puntare subito la porta pensa ad alzare le braccia per dire non ho fatto fallo ma vai verso la porta evidentemente però magari se non lo fa gli fischia fallo ma può anche darsi questa invece è l'azione in cui lui mette Larsen in porta poi dopo sbaglia il tiro ma lì vabbè ci può ci può anche stare ecco qui appesso quell'attimo buono che ha permesso poi al difensore del Napoli di andare a chiudere vabbè comunque cose buone cose meno buone lasagna ha bisogno di ritrovarsi e adesso tra l'altro questa è l'azione dove si può dire che ha sbagliato con questa palla di piatto molle indubbiamente poteva fare meglio dopo una bella cavalcata di De Paul abbiamo bisogno che lasagna si ritrovi al più presto anche perché adesso c'è solo lui come punta c'è Nestorowski vabbè De Olofè oggi neanche convocato speriamo che possa anche lui entrare perché può essere il giocatore che fa la differenza e lui ha bisogno soltanto di ritrovare la tranquillità in questo caso può avere continuità dal punto di vista dell'impiego perché con gli infortuni non ci sono altri calciatori Gotti non può scegliere diversamente dal mandare in campo lasagna e questo può essere per lui sicuramente positivo perché non deve pensare a qualcuno che gli ruba il posto ma deve soltanto pensare a ritrovarsi lui a ritrovare se stesso ad essere il lasagna che ha fatto 30 gol con la maglia dell'Udinese Alice vediamo se c'è ancora qualche spunto consentiamo Mandragora intanto Francesco dobbiamo dobbiamo aggiornare il risultato perché era passata la Juventus in vantaggio con il gol di Danilo al 51esimo ma nel frattempo il Sassuolo ha recuperato quindi gol del Sassuolo di De Frel al 59esimo e il risultato al 59esimo appunto di 1 a 1 tra Juventus e Sassuolo leggiamo allora Francesco qualche messaggio perché stanno continuando ad arrivare davvero davvero tanti messaggi ci scrivono eravamo a 0 a 0 e abbiamo sbagliato un gol decisivo subito dopo ne abbiamo preso uno e con un errore che da un difensore non ti aspetti minimamente significa che non si sentono tranquilli esatto aggiunge poi il nostro telespettatore Lasagna davanti al portiere per paura non tira e crossa anche male per Mandragora che non riesce a tirare non ti puoi permettere certi errori ci scrive e poi senza papere difensive staremo già a festeggiare una vittoria con il gol di Lasagna la squadra mi sembra debole psicologicamente durante le partite ci vorrebbero le urla di Cioffi questo è il messaggio che ci manda Max da Moraro c'è anche la dita che oggi abbiamo sentito Gattuso urlare dal primo al 94 quanti minuti di recupero sono stati 4 5 4 dal primo al 94 ma non è che il Napoli abbia beneficiato di queste urla quindi poi sul discorso 5 a 1 con le urla un po' di animosità in più ci vorrebbe una via di mezzo tra Gotti e Gattuso ma sentiamo Mandragora che oggi è tornato titolare tutto sommato anche una prestazione non male da parte di Rolando che ha avuto l'opportunità anche di calciare in porta con pericolosità in un paio di occasioni sentiamo al microfono di Jacopo Romeo dopo la partita c'è rammarico perché abbiamo avuto diverse occasioni è un peccato non essere riuscito a sfruttarle alla fine prendi un gol così su un calcio piazzato e su un ricorre perché alla fine abbiamo preso due gol così abbiamo concesso poco e niente al Napoli non meritavamo la sconfitta secondo me però adesso siamo qui a parlare di un risultato che è negativo sicuramente non è un risultato positivo quindi dobbiamo lavorare e uscire da questo momento quanto prima vi siete anche non so non cosa vi siete detti nel dettaglio chiaramente ma vi siete parlati immagino che c'era tanta amarezza come dicevi tu sì sì come ho detto nella risposta precedente c'è il rammarico perché abbiamo creato abbiamo concesso poco abbiamo fatto una partita una buona gara siamo stati in partita fino alla fine poi prendere un gol così fa male e soprattutto dispiace perché tutto il sacrificio che è stato messo durante i 90 minuti svanisce svanisce nel nulla sei tornato a giocare da mezz'ala sul centro-sinistra ti chiedo anche come ti sei trovato perché hai giocato un'ottima partita ti sei proposto tante volte sei andato al tiro ti buttavi spesso dentro è la prima partita da titolare avevo bisogno di trovare minuti e devo trovare la condizione ottimale che solo la partita ti può dare avrei perdito un altro risultato è una prestazione un pochino più sottotono però purtroppo non è arrivato il risultato e niente come ho detto lavoriamo e cerchiamo di ottenere punti già dalla prossima partita allora lavoriamo cerchiamo di ottenere punti non c'è da aggiungere altro a questo concetto servono i punti serve essere magari anche un pochino più brutti ma essere più produttivi portare a casa qualcosa perché altrimenti man mano che si andrà avanti il rischio è non tanto di far peggiorare la classifica c'è anche quello però c'è il rischio di entrare in un loop negativo in cui poi mentalmente non riesci più a tirarti su vero Fulvio questo può essere un rischio molto molto pericoloso che l'Udinese corre al di là della classifica che è un rischio ma quello di entrare in un loop negativo e dire qualsiasi cosa faccio non mi va bene ma è quello allora io quando qualche settimana fa Guido voi ne siete testimoni io parlavo di preoccupazione preoccupazione è questa cioè quando si manifestano continuamente degli errori ripetitivi e questa è la preoccupazione è chiaro che come dice Guido non sono preoccupato per un'eventuale retrocessione per la classifica perché l'Udinese è una squadra di qualità lo ha dimostrato anche oggi contro a Napoli però nel calcio siccome una certa esperienza ce l'ho la qualità conta fino a un certo punto perché bisogna fare punti perché dopo come giustamente hai detto tu Francesco subentra l'ansia l'ansia della prestazione perché non riesce ad ottenere guardate il Torino il Torino in fondo adesso ieri ha perso ma ha ottenuto dei risultati positivi nelle ultime due o tre partite ma le prime Torino è una squadra c'ha il centroavanti della nazionale ha tutto sommato un centrocampo di livello però ti entra dentro l'ansia ti subentra l'ansia i risultati non li fai perché giochi col breccino corto come nel tennis e allora l'udinese ha subito bisogno sabato di un risultato positivo contro la Sampdoria ed è giusto torno a dire io non lo sapevo ma me l'avete detto voi l'ho saputo da questa trasmissione della nostra trasmissione benvenga a ritiro io sono antico in questo perché il ritiro serve per riflettere serve per stare insieme serve per per fare anche delle riunioni per vedere cosa non è andato per parlare con l'allenatore per parlare tra di noi non andare in camera ognuno nella propria camera col cellulare come ha detto oggi Gattuso cioè serve per fare aggregazione per fare squadra e secondo me la società ha fatto un'ottima scelta da martedì si va in ritiro quindi siamo d'accordo in certi momenti il ritiro serve poi gli allenatori non saranno mai d'accordo sul ritiro lo abbiamo letto per rispondere anche ai telespettatori devono andare in ritiro basta anche perché hanno come dicevi tu Guido all'inizio tutto da questa società compresi gli stipendi pagati puntualmente quando sono in corso trattative scontri polemiche tra società e calciatori in mezzo a Italia per la questione Covid qui si paga lo stipendio regolarmente anzi oggi il 10 di gennaio sono stati pagati prima anziché dopo gli stipendi mi risulta quindi da questo punto di vista la società è impeccabile è giusto che i calciatori siano altrettanto impeccabili non vogliamo dire che non lo sono che non lavorano che non lo fanno in maniera professionale ma devono farlo evidentemente un po' di più e quindi il ritiro può sicuramente aiutare a ritrovare e a dare quella spinta anche per far chiudere il ritiro perché molte volte la reazione arriva non tanto perché esiste in ritiro ma perché non vogliono starci più o no Nicola quindi si è così può essere anche questa una chiave di lettura però giustamente bilanciamo le due opinioni di Fulvio e Gattuso Fulvio dice si fa aggregazione però il mister del Napoli dice adesso tutti vanno in ritiro col tablet o con il telefono si fanno gli affari beati loro bisogna riuscire a un attimo a contemplare diciamo le due esigenze quello di far incontrare un po' di più i giocatori e quella di dal loro punto di vista di evitare il ritiro quindi darsi una spicciata deve essere bravo chi organizza poi il ritiro dal punto di vista tecnico e anche organizzativo a creargli questi momenti di aggregazione poi è chiaro quando vanno a dormire la sera non è che puoi fare le camerate di 20 persone saranno sempre in due in camera e quindi saranno col telefonino va bene ma negli altri momenti della giornata dovranno stare insieme parlarsi guardarsi in faccia fare più riunioni avere più momenti in cui scambiarsi anche tra di loro dei pareri con l'allenatore fra calciatori capire quello che non va e come migliorare queste situazioni anche di comunicazione un segnale che la società che la proprietà sono stufe sono stufe di questo andazzo qua perché non è possibile che l'udinese commetta questi errori in serie sembra che escano da una fabbrica non è possibile simili regali degli avversari per cui il ritiro benvenga anche per questo la società è stufa certo una volta capitava vero Fulvio che i presidenti non pagavano gli stipendi per punizione questo l'udinese non lo fa però ti manda in ritiro ci vai e ti stai zitto beh io dovevo scrivere un libro nei miei 18-20 anni di carriera quello che è successo e sono successe anche le cose che hai detto tu però non è il caso certamente di una proprietà solida e seria come quella dell'udinese però io quando i giocatori mugugnano per un giorno che gli chiedi di andare in ritiro se mi permetti o due giorni se mi permetti è mancanza di professionalità non parlo dei giocatori dell'udinese parlo in generale anche al Napoli tu lo sai che l'anno scorso due anni fa è scoppiata la rivolta la rivolta nel senso ecco queste cose io non le concepisco non le concepisco perché nella professione del calciatore esiste anche questo esiste anche la possibilità di stare insieme di ritirarsi e di riflettere come ha detto Guido sugli errori che continuano a ripetersi ripetersi domenicalmente l'udinese secondo me deve riflettere perché guardate che gli errori che abbiamo visto di Tomiasu contro il Bologna o gli errori anche di oggi contro Pacaglio Co c'erano anche l'anno scorso ma vi ricordate l'anno scorso quante volte parlavamo e dicevamo a 5 minuti dalla fine c'era un calo di concentrazione ti dimenticavi l'uomo alle spalle la partita con il Milan ma ve ne posso nencare adesso vado a come posso dire a vedere tutte le partite lo scorso anno e la prossima puntata ve le dico tutte queste partite col Bologna se ti ricordi col Bologna in pieno recupero col Bologna ma oggi Gotti ha ricordato ha ricordato nel gol preso oggi quello preso anche col Bologna lo ha detto proprio ha detto abbiamo preso gol su calcio da punizione in quel modo così come a Bologna ha detto però situazioni in cui di solito siamo bravi insomma ma non è vero no ultimamente no lui ha parlato su pallinative su pallinative però su pallinative è successo col Bologna il turno precedente gli errori si sono visti sono stati ricorrenti errore per esempio di Bonifasi sono ricorrenti entrate in ritardo eccetera eccetera a fuori luogo su pallinative forse ha ragione Gotti perché su pallinative cioè azione calcio d'angolo punizione non è che l'Udinese abbia beccato tanti gol però due di seguito e quindi la situazione si aggrava eh sì Alice vai ora qualche messaggio allora ci scrive Daniele Lasagna non deve mettere in apprensione gli avversari deve segnare e poi sottolinea che il ritiro in realtà non fa diventare un giocatore un campione e poi ci non è che si va in ritiro e un brocco diventa un fuoriclasse premesso che brocchi non ce ne sono nell'Udinese sono tutti giocatori bravi di un livello medio alto e quindi hanno solo necessità di ritrovare non fanno ma i ritiri possono sotto certi punti di vista aiutare possono servire vai Alice poi ci scrivono con la rosa che abbiamo dovremo essere a livello di Sassuolo e di Verona dopo l'infortunio di Nointing solo passi indietro sotto ogni punto di vista giochiamo solo con spunti di De Paul e con lanci lunghi per Lasagna se si hanno cinque cambi e tu fai il primo a dodici minuti dalla fine questo denota delle difficoltà nelle letture dell'allenatore questo messaggio del nostro telespettatore riguardo a Nointing ci scrive un altro tifoso dicendo sarei interessato a delle statistiche sui gol subiti e i punti con Nointing in campo e con Nointing fuori a Naso si va da media Europa a media ultimo posto poi ancora ci scrivono un altro messaggio eccolo qua adesso lo recuperiamo molti si lamentano dei cambi certo i subentrati non hanno inciso ma quando Gotti si è girato per vedere chi poteva inserire in panchina non ha trovato nulla questo è il messaggio di Emiliano anche su questo non è del tutto vero ci sono dei problemi di organi i cambi sono stati fatti a 71 a 20 dalla fine non a 12 sì e sono entrati i giocatori che poi tutto sommato in un'altra occasione hanno fatto anche i titolari quindi non possiamo dire che Gotti si è girato e ha trovato solo ragazzini è chiaro che c'è un problema di organi per i tanti però non dobbiamo troppo neanche esagerare nel dire che non avesse altre soluzioni o altre cose da poter fare semmai chiedo mi sono chiesto anch'io perché fuori Aslan forse perché era giallo perché Aslan teneva faceva diga nel mezzo sgarfava come si usava un termine alla del Piero ha dato l'anima quando lo sito l'ho visto che non era tanto d'accordo forse la sua sostituzione è di peso dal fatto che era ammonito però Aslan in quel momento recuperava palloni dava l'anima era un esempio per gli altri anche se magari sbagliava qualche passaggio dopo quando è entrato Wallace io mi aspettavo è fresco questo qua fa una diga in mezzo al campo non si passa e magari in contropiede l'Udinese fa il gol e invece no era fuori partita perché il signor Wallace non è mai entrato in partita era assente però possiamo dire che Wallace sia un brocco presso la panchina e buttato in campo no Wallace le sue partite buone le ha fatte era titolare da subito ma nessuno discute Wallace sto rispondendo a chi dice che Gotti si è girato verso la panchina e non aveva nulla da mandare in campo non è vero perché ha mandato in campo Wallace ha mandato in campo Zegel ha mandato in campo Nestorowski certo altri cambi forse non riusciva a farli non poteva farli visto anche le caratteristiche che aveva a disposizione però questi tre che abbiamo citato e sono giocatori che quando sono entrati o da titolari o da subentrati la loro parte l'hanno fatta Nestorowski ha fatto gol in un paio di occasioni entrando a partite in corso Wallace spesso ha giocato Zegel ha fatto il titolare tant'è che è stato messo fuori proprio per fargli tirare il fiato dunque dire che Gotti non aveva in panchina nessuno da mettere in campo e si è girato a vidito secondo me è sbagliato piuttosto sul cambio di lasagna qualcuno sostiene ha sostenuto che questo sia stato un regalo al Napoli togliendo lasagna ha tolto la possibilità io non sono d'accordo chiedo a te Nicola non sei d'accordo di cosa sentiamo quando lasagna è uscito l'udinese forse si è un po' abbassata non ha dato più quella profondità che stava dando al suo gioco e il Napoli a quel punto ha avuto più facilità nel controllare Nicola si letta così è vero perché dopo rappresentava uno spauracchio almeno dal punto di vista delle ricerche della profondità per caratteristiche tecniche il giocatore ha abbassato un po' il baricentro ha schiacciato un po' la squadra verso la sua area però forse la lasagna era anche stanco non lo so contrariamente a Darslan non era contrariato però è uscito un pochino è sempre indecifrabile l'espressione di lasagna però non mi è sembrato contentissimo di uscire forse qualche altro minuto l'avrebbe fatto volentieri almeno questa è la sanzione che ho avuto io lì dal campo questo non ho visto quindi non te lo so dire però volevo chiedere a Fulvio perché in relazione sempre a questo cambio che secondo alcuni è stato un assist al Napoli essendo un momento della partita in cui non è che il Napoli stesse assediando l'udinese la partita era equilibrata ancora rimaneva equilibrata aperta a qualsiasi soluzione qualcuno dice perché non ha messo Nostorowski lasciando lasagna in campo e togliendo un altro calciatore un centrocampista un esterno io sono io sono tra quelli Francesco tra quelli che hanno come posso dire visto un po' male la sostituzione di lasagna è vero che ha sbagliato tre gol quattro gol però davanti alla porta c'è sempre arrivato e soprattutto devi tenere presente senza Manolas senza Coulibaly tolto Ramani praticamente con una difesa dove evidentemente è in difficoltà con la velocità di lasagna io dico ma i giocatori non possono giocare anche 90 minuti perché lo devi togliere al settantesimo oltretutto a me sembrava sembrava che stesse bene torno a dire non lo giudico perché se dovessimo giudicarlo per il gol che ha sbagliato è chiaro che gli devi dare un'insufficienza però davanti alla porta e con la sua velocità ha messo in crisi la difesa del Napoli parliamoci chiaro per quello che dico ti sei un po' abbassato con Nesto Roschi che ha tutta un'altra caratteristica come giocatore io non posso dire chi lo ha detto perché qualcuno del Napoli ha detto togliendo lasagna c'è stato fatto un regalo una battuta così e c'è stato anche qualcun altro che ha detto lasagna è un giocatore che ci ha messo in grande difficoltà con la sua velocità perché voglio dire questo perché abbiamo detto peste e corna di lasagna con i gol che si è mangiato ma è giusto dire anche è giusto dire anche che con i suoi strappi la difesa del Napoli è andata in difficoltà ed è stato riconosciuto questo proprio dagli avversari non posso dirvi chi me l'ha detto perché sarebbe come fare un'intervista non autorizzata però mi è stato detto questo nonostante il gol cioè quell'occasione lì quando l'ho tirato di piatto quella gliela puoi imputare come gol sbagliato è stata una prestazione più che sufficiente di lasagna e poi vedete i voti che gli avete dato lì c'è qualche messaggino poi andiamo ancora in pubblicità per il secondo break se poi la moda è quella di dar contro a lasagna a tutti i costi diciamo quel che dobbiamo dire cioè che deve essere più tranquillo più freddo sotto porta riconosciamogli però anche quelle che sono le sue qualità che sono state riconosciute anche dagli avversari di un attaccante che mette in difficoltà con la sua velocità Alice il messaggio di Emanuele Francesco che ha una domanda dice sono diversi anni che parliamo sempre degli stessi problemi cioè regaliamo dei gol assurdi e segniamo con il contagocce eppure sottolinea il nostro telespettatore sono cambiati diversi allenatori e sono passati diversi giocatori allora si chiede come mai i problemi rimangono gli stessi e poi un altro messaggio eppure il gioco scrivono da casa che ha dato Gotti produce occasioni da rete lo dicono le cifre sui tiri fatti mentre la percentuale di finalizzazione è bassa e quindi è evidente che c'è la necessità di qualche attaccante in più dicono da casa riguardo ai cambi Vincenzo fa una precisazione e dice sono cambi ruolo per ruolo ma mai cambi di svolta tattica vedo che appunto annuisci su questo era infatti il discorso che facevate prima ci scrivono poi ancora è vero che Lasagna ha messo in difficoltà la difesa con la velocità e allora dicono fanno una battuta e allora questiamo volte voglio anche rispondere a chi vuole la foto del mio abbraccio con Gattuso a parte che io non l'ho abbracciato uno non lo conosco due mi sono trovato il mix no 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 veramente non lo conosco mi sono trovato il mix che ha abbracciato il direttore che ci conoscono io ho dato il pugno a Gattuso perché mi ha salutato l'ho salutato da persona educata poi se qualcuno vuol mettere in dubbio la mia professionalità sul fatto che sono napoletano e tifoso del Napoli vabbè fatelo pure però io non ho mai tanti altri difetti ma non questo ormai sono quasi dieci anni che sono qui credo di aver dimostrato di saper essere abbastanza professionale anche quando l'udinese gioca contro il Napoli detto questo la foto con Gattuso in abbraccio non c'è semplicemente perché non l'ho abbracciato e lo avrei abbracciato se fosse stata una persona con la quale ho avuto dei rapporti in passato non lo conosco non conosco Gattuso pur essendo una persona che segue il Napoli Gattuso personalmente non lo conosco ma va molto questa cosa ultimamente anche De Paul che abbraccia Di Bala a fine pari da Torino non si può salutare nessuno vietato poi non è che Gattuso sia venuto a rubare qualcosa nelle mie tasche o nelle tasche Gattuso è stato allenatore di una squadra basta finita la partita se avessero importanza ha salutato che è il suo grande amico e sospetto che è vicino a Gattuso va bene va bene Alice andiamo avanti rispondiamo anche ai messaggi più scomodi altrimenti ci accusano di rispondere solo a quello che vogliamo ancora qualche messaggio questo qui nessuno chiama gli uomini in difesa né dal campo né dalla panchina Lasagna deve fare 30 minuti al giorno di Muretto con due piedi non è possibile tirare così scrivono poi ancora Luca dice i problemi sono gli stessi perché siamo sempre con il 3-5-2 quindi Luca torna sul discorso del modulo e poi Idelma dice anche l'arbitro ha detto bravo a Lasagna quando ha segnato un altro messaggio è questo qui che si rivolge a Nicola riguarda una considerazione fatta precedentemente sì la squadra ha un gioco ma a volte nel giocare dal basso prendiamo gol e allora è meglio non giocare e vincere concretezza scrive il nostro telespettatore ancora ci scrive Massimo certo che dobbiamo anche ricordarci che sui 16 punti dell'Udinese 6 li abbiamo fatti con Cioffi in panchina appunto questo è il messaggio di Massimo e ancora tanti messaggi su Cioffi è un errore c'è sempre in panchina Cioffi c'è sempre in panchina però non vuol dire che quando Cioffi voglio rispondere a quel telespettatore che dice col 3-5-2 l'Udinese non ha perso per il modulo oggi perché poteva giocare anche con il 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 l'ultimo gol non c'entra il modulo erano in 6 lì schierati cosa c'entra il modulo? se non avesse fatto gol Baccaio Co tutti adesso oggi l'Udinese mi è piaciuta un punto sacrosanto se poteva anche allora il problema non è il modulo sono gli errori la mancanza di concentrazione in certi momenti decisivi del MES questo è il grave non il modulo non quello quell'altro il rigore di Bonifazi può giocare a 7 dietro ma comunque è un errore o i gol di Tomiasu e poi ogni volta che l'Udinese perde viene fuori il modulo quando vince no vabbè questo è chiaro se si vince non c'entra il modulo il modulo è l'ultimo quando si vince non si mette in dubbio quasi niente allora fermiamoci un attimo andiamo in pubblicità prima però Alice aggiornaci sul risultato a Torino perché è cambiato di nuovo eh sì Francesco è tornata in vantaggio la Juventus con il gol di Ramsey all'ottantaduesimo quindi all'ottantatresimo Juventus Sassuolo 2 a 1 pubblicità eccoci qui di nuovo in diretta siamo tornati per la terza e ultima parte e ci sono ancora tanti messaggi da leggere vai Alice allora ci scrivono ironicamente a lasagna serve una password per riuscire a sbloccarsi e poi ancora ho ancora un altro messaggio riguarda Samiri in questo caso scrivono non si possono fare gli stessi errori in ogni partita non bastano i piedi buoni se sei assente e poi chiedono da casa se De Lofeu sarà disponibile contro la Sampdoria ancora un messaggio che riguarda il tifo dicono nessuno ne parla mai ma i giocatori manca il nostro supporto e il nostro tifo in panchina scrivono poi abbiamo un sacco di cambi a disposizione ma entrano sempre solo quei 2-3 Ziegler Wallace raramente Oweyan oggi avevamo anche Teraves Rigo Palumbo Mack'n'Go però non sono entrati questo è Emiliano sì allora bisogna ricontattare Fulvio Collovati leggia per cortesia perché è caduto il collegamento all'improvviso tra un attimo lo riprendiamo l'abbiamo di nuovo con noi eccolo qua quasi tornato è quasi tornato con noi Fulvio che deve però mettere in orizzontale il suo il suo dispositivo altrimenti non ti vediamo bene Fulvio devi girare il tuo iPad devi metterti in orizzontale allora proseguiamo ancora con con qualche messaggio sì Francesco allora ci sono ancora diversi messaggi ancora sul secondo gol c'è chi sostiene che Musso doveva uscire dicono giusto parlare della difesa ma guardiamo agli attaccanti quanti errori sui gol e appunto ogni domenica puntualmente sono in campo poi c'è chi scrive con metà della fortuna dello Spezia si vinceva 4 a 2 e ancora Luca sottolinea che ci sarebbe bisogno di un altro attaccante e che se avessimo avuto appunto un altro attaccante avremmo vinto con tre gol di scarto troppi errori individuali scrive poi il nostro telespettatore un rigore di una ingenuità paurosa troppi tiri dal limite senza un adeguato contrasto punizione assolutamente da non provocare in quella situazione ed in quella posizione del campo fino alle marcature conseguenti d'altronde Gattuso aveva capito che solo così poteva segnare vedi l'ingresso di Llorente e troppe occasioni da gol buttate tutto come sempre allora tra un attimo apriremo la parentesi del pagelone però prima vorrei vedere anche l'episodio del rigore perché l'abbiamo tralasciato se non visto nelle immagini del servizio e così sporadicamente passate a copertura dei nostri dibattiti ma vediamo un attimo il fallo da rigore commesso da Bonifazi questa è tutta l'azione che parte molto larga del Napoli poi Fabian Ruiz c'è un colpo di tacco Lozano si avventa sul pallone ma purtroppo si avventa pure un po' scoordinato e fuori tempo Bonifazi che butta giù Lozano pretende anche di far passare questo per un intervento sulla palla ci sta è giusto essere furbi e provarci ma col VAR non puoi più essere furbi però io dico come è possibile che il collaboratore dell'arbitro non si sia accorto di nulla lì era proprio in linea con quello che è successo vabbè che c'è il VAR che fa da che da manforte ma come hanno fatto a non accorgere questo però è un altro discorso ma fallaccio questo calcio di rigore che segno di rialzarsi vuoi rifare ma più che segno glielo dice proprio non so se abbiamo le abbiamo anche l'audio ragazzi vabbè dai mi sembra l'equivocabile basta girare il dito sulla piaga no no ok no volevamo capire se si sentiva era simpatica più che altro con Bonifazi che dice Lozano alzati no vabbè dai si chiama che devo dire qualcosa altro no non c'era non abbiamo sentito più volte non c'erano parolacce non c'erano parolacce infatti l'avevamo ascoltato più volte prima va bene Fulvio intanto se vieni tu a Udine non ti abbraccio stai tranquillo se vieni tu non ti abbraccio Gattuso ok ma a te non ti abbraccio si è frizzato per paura di essere abbracciato ma se tu te fai il fruttato ho il cellulare Stefanino ho il tuo abbraccio con Gattuso mandamelo per cui sei sei ricattato comunque dicevamo errore di un errore di un errore di una grande ingenuità sì errore di grandissima ingenuità e vediamo quanto io lo avete fatto pagare voi opinionisti nelle pagelle dunque possiamo andare con le pagelle e partiamo subito con quella di Guido Gomirato come sempre eccoci qua allora pronti dopo la sigla con la grafica della pagella di Guido Guido che da Musso un 6,5 il 6 per Becao per Bonifazi invece 5 Samir 6 Molina 5,5 De Paul 6,5 una sfilza di 6 6 per Arslan per Mandragora per Larsen per Pereira e per Lasagna al mister Gotti 5,5 mentre 5 per Wallace 5,5 per Ziegler e per Nestorowski senza voto beh tutto sommato per essere una pagella di una partita persa mi sembra comunque una pagella dignitosa per tutti ad eccezione di Bonifazi e di Molina il mezzo punto a Molina in meno credo sia e Wallace 5 perché i due colpevoli ho dato 5 i due colpevoli sono Bonifazi e Wallace se volevi potevo dare anche 4 ma Bonifazi mi dispiace che Bonifazi abbia commesso quel grave errore perché per il resto è stato impeccabile è stato il miglior ha fatto una sua bella partita onesta però l'insufficienza gli spetta di diritto come rispetta di diritto al signor Wallace sì allora vediamo se riusciamo a leggere la pagella di Nicola adesso leggiamo quella di Nicola poi andremo su Fulvio aspettiamo allora che cambi eccola qui la pagella di Nicola per Nicola Musso un bel 7 Becao 6 Bonifazi 5 Samir 6 Molina 5 Depol 6 Arslan 6,5 Mandragora 6 Larsen 6,5 Pereira 6 Lasagna 6,5 Al Mister Gotti 5,5 Wallace 5,5 5,5 anche per Ziegler e Nestorovski senza voto allora beh anche qui mi sembra sono pagella abbastanza in linea con qualche mezzo punto in più o in meno ma tutto sommato mi pare sì però questa è abbastanza generosa sì Fulvio no non troppo generosa allora Fulvio ho visto Molina che Nicola gli ha dato 5 di pari ecco Guido che quanto 5,5 Guido 5,5 Guido a chi? a Molina a Molina allora purtroppo abbiamo un problema con Fulvio il segnale non è buono Fulvio dal tuo collegamento in questo momento e dunque non riusciamo ad averti no io ci sono e lo so che ci sei ma arrivi male ecco adesso forse va bene è che Guido che quanto ha la considera 5,5 quindi senza quell'errore gli avrebbe dato 6 giusto Guido? a chi? a Molina un voto regalato considera che un voto regalato 5,5 dato che è responsabile del gol del Napoli parliamoci chiaro per cui cioè nel calcio Guido lo sa fino al novantesimo non c'entra niente se hai giocato una buona partita c'entra quello che hai fatto dal novantesimo al novantatresimo praticamente la responsabilità del gol per cui non è che gli puoi dare 5,5 il solito 5,5 devi essere bisogna essere un pochino più sta mettendo le mani avanti sta mettendo le mani avanti e Wolas con il fallo che Molina con la presunta marcata marcatura con la mancata marcatura giusto Guido? a Wolas quanto hai dato? 5 Wolas ho dato 5 5 perché non è entrato in partita e ha commesso con l'inutile fallo ha giocato 20 minuti 20 minuti non puoi neanche dargli 4 gli dai 5 come vedere cosa hai fatto in questi 20 minuti niente ok vediamo la pagela pagella di Fulvio pagella di Fulvio anche per Fulvio 7 a Musso Becao 6 Bonifazi 5 5 anche per Samir Molina 4 De Paul 6,5 Arslan 5,5 Mandragora 6 6 anche per Larsen 5,5 per Pereira Lasagna 6 al Mister Gotti 5,5 Wolas 5 Ziegler 6 e Nestorowski senza voto stava mettendo le mani avanti 4 a Molina Fulvio Allora voglio sentire se hanno qualcosa da dire i tre signori in studio Ecco cominciamo Guido Allora io non ho mai niente da ridire perché se tu non l'hai ancora capito io non discuto i voti degli altri Ma perché? Perché non discuti i voti degli altri? Ma perché devo mettermi a discutere i voti che dà un altro come se io adesso mi mettessi qui e andassi a criticare i voti che dà il messaggero che non conosco peraltro domani vedo i voti del messaggero o della Gazzetta dello Sport o del Corriere dello Sport e dico ma hanno dato 6 forse hanno ragione loro ma non mi permetto di giudicare gli altri perché nessuno è infallibile tu hai dato 4 sembri che tu sia il Dio in terra che dai 4 basta dovete dare tutti 4 a Molina non è così non è così nei giudizi si rispettano i giudizi di tutti di tutti vanno rispettati i giudizi per esempio io su qualcuno dei tuoi al di là di Arzlan al di là di Molina non sono d'accordo ma rispetto perché probabilmente avrai anche ragione in questo momento io posso non essere d'accordo ma non sono io il tenutario della verità come non lo sei te è una questione di rispetto te l'ho già detto perché io rispetto quello che scrivono gli altri non posso condividere ma può darsi che abbiano ragione anche allora il voto che uno dà a un altro probabilmente dico ma avrà visto un'altra partita avrò sbagliato io perché sono anche umile nello stare zitto ma tu non puoi venirmi a me a insegnare perché si dà questo voto qua ma chi ha detto che tu hai ragione chi l'ha detto ma chi ha detto allora stai facendo tutto uno scopo no stai facendo tu che non ti va bene niente io ti ho detto che non intervengo sui voti altrui perché io sono in collegamento sono penalizzato se mi permette se mi fai dire io non ho detto che il mio voto deve essere per forza quello che va bene non ho parlato di mancanza di umiltà non ho detto ho dato solo un voto 4 perfetto e io non sono intervenuto ho lasciato il tuo 4 può darsi può darsi che sia anche d'accordo perché a volte io dico ma forse ha ragione lui ma sono abituato a non giudicare i voti altrui da quando avevo i calzettoni corti che forse tu non eri neanche nato sumo e allora cosa li mettiamo a fare Francesco togli le pagelle della prossima puntata perché il signor Guido Gomirato non vuole che commentiamo le pagelle degli altri no non hai capito non hai capito niente ancora una volta io se tu vuoi commentare i miei voti sei liberissimo di farlo e ti lascio ma che tu pretenda che io vada a commentare i voti degli altri hai sbagliato indirizzo non l'ho mai fatto non lo farò certo adesso ti lascio commentare i miei sempre l'amore di Dio guarda che i voti che dai i primi a commentare sono i giocatori non ti devi preoccupare ma comunque il 4 è un voto che non lascia ma forse Fulvio andiamo avanti inutile continuare questo discorso che diventa noioso non è questione dei giocatori non dei giocatori che rimangono male questo lo so perfettamente come rimanevi male anche te per l'amore di Dio sto dicendo che io dei miei colleghi in questo momento tu sei un mio collega perché sei opinionista ho sempre avuto rispetto se davano due perché ho visto anche dei due ma scusa Natto scusa Natto io non sono mai intervenuto a dire hai sbagliato allora benissimo tu non vuoi commentare i voti ma io il fatto che commenti e dica ma secondo me tu 5 e mezzo potevi dare 5 significa che io ti manco di rispetto? no non hai capito ancora e allora è meglio chiudere ho detto che tu puoi dire quello che vuoi non mi manchi di rispetto guarda che c'è una registrazione ho detto che ti lascio dire quello che vuoi sui voti miei li accetto ma che tu dica perché non commenti i miei perché sono abituato a non commentarli tutto lì lo sto dicendo da anni sono abituato a non commentare se posso i voti che danno i miei colleghi posso pensare se hanno ragione hanno sbagliato ma di solito non intervengo stoppa la polemica perché voglia sapere e questo non significa niente puoi intervenire sui miei voti fermatevi perché deve dire anche la sua Nicola deve dire la sua anche Nicola hai chiesto l'opinione dei tre Nicola tu sul 4 a Molina per un errore voglio giustificare 4 a Molina attenzione non voglio 4 è pesante perché di solito il criterio vuole che per dare un 4 uno debba fare un errore pesante che sia espulso cosa del genere insomma ha fatto un errore il 5 è meritato secondo me 4 è esagerato ecco io commento invece il voto di Fuglia ti porto gli elenchi dei 4 che ho preso nella mia carriera o dei miei colleghi che abbiamo preso stai all'indietro Fulvio altrimenti esci dall'inquadratura siediti dietro tu hai perso per quello perché è esagerato ma dove sta scritto vedi allora conveniva non commentare come dice Guido ma Fulvio nessuno vuol dire ha detto che hai torto nessuno dice che hai torto io sto dicendo personalmente che non commento può darsi che tu abbia ragione non mi intervengo sul merito su quello che tu hai sui voti tu hai dato quel giudizio può darsi che tu io dica ha ragione ma sono abituato a non commentare cerca di credermi su quello che dico non vorrei mai commentare i voti degli altri dopo i due gradi di giudizio primo e secondo grado andiamo in Cassazione da Canciani e qui non ammetto repliche quindi Fulvio accetta il verdetto della Cassazione questo qua ma no ma potete fare quello che volete grazie grazie per la fiducia ma non prendersela che si è pronunciata con quello che ha fatto è fatto fatte nessuno ti dice che hai sbagliato io non ti ho detto che hai sbagliato ho detto che non commento guarda che forse state fraintendendo io non me la sto prendendo io sono convinto che ho fatto poi non ho detto che ho ragione perché tu sei convinto che io pensi che hai ragione siamo in Cassazione e poi chiudiamo basta siamo in Cassazione sono Cassazione su un po' più vicino a Nicola e a Guido anche perché nel primo tempo Molina ha fatto una buona prestazione e quindi a cosa lo condanniamo a cosa condanniamo per la bella partita che ha fatto poi domani Gotti va lì gli dice grazie Molina perché ti sei dimenticato di vaccaio a cosa lo condanniamo ma niente ma niente va bene allora pena sospesa condannato pena non quantificata e sospesa condanniamo Molina no non condanniamo nessuno dai allora grazie Fulvio alla prossima buonanotte ci vediamo domenica l'Udinese gioca sabato noi andiamo in onda domenica alle 21.30 per commentare Udinese Sampdoria grazie grazie a Fulvio Colovati grazie Guido grazie a Nicola grazie Marco Alice grazie anche a te ricordaci solo il finale di Juve Sassuolo e poi chiudiamo la trasmissione grazie Francesca infatti vi saluto proprio aggiornandovi il risultato finale partita terminata Juventus che ha segnato il terzo gol con il gol di Cristiano Ronaldo che è arrivato al 92 quindi proprio sullo scadere dei due minuti di recupero quindi Juventus Sassuolo 3 a 1 grazie a voi grazie a tutti quelli che hanno scritto anche a chi ha scritto del mio presunto abbraccio agattuso che non c'è stato ma che se ci fosse stato non l'avrei certo disconosciuto non avrei avuto nulla di che giustificarmi comunque grazie anche a chi ha scritto questo grazie per averci seguito di nuovo buon proseguimento di serata con il nostro canale per chi vuole rimanere ancora sveglio e sintonizzato su Udinese TV ci vediamo domani sera per quanto riguarda ancora l'Udinese in particolare con Udinese Tonight arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.